Un festival dedicato al cinema che è un viaggio alla riscoperta di un celebre regista di un territorio, quello ofantino, carico di storie e bellezze. Questa l'idea di fondo del Fernando Di Leo Short Film Festival, organizzato dalla Proloco di San Ferdinando di Puglia e in collaborazione con le Proloco di Margherita di Savoia e Trinitapoli e patrocinato dai tre comuni ofantini, dalla provincia di Barletta Andrea Trani e dalla regione Puglia. È un'iniziativa unica nel suo genere perché comprende non una singola città ma tre realtà insieme, per la prima volta San Ferdinando, Trinitapoli e Margherita, uniti sotto l'unica bandiera della Valle dell'Ofanto. Questo è il primo festival del cinema della Valle dell'Ofanto Unita ed è dedicato alla memoria di un personaggio storico straordinario, Fernando Di Leo, che è stato probabilmente il più importante regista pugliese che abbiamo avuto qui da noi. Lui è nato a San Ferdinando di Puglia ma si è portato in California ed è stato uno degli ispiratori del maestro Quentin Tarantino. Il festival che si svolgerà il 9, 10 e 11 settembre comprende un concorso di cortometraggi provenienti da tutto il mondo ed è costellato da eventi ed incontri. Saranno diversi gli eventi che si svolgeranno durante il festival. Cominceremo con un evento in collaborazione con l'Università di Foggia dove parteciperanno gli studenti dai 14 ai 25 anni, compresi gli studenti dell'Università. E poi eventi per bambini con i più piccoli che visioneranno i cortometraggi e decideranno loro stessi il vincitore. Ma poi la particolarità, quello che è il fiorello occhiello del festival, sono gli eventi sui luoghi, gli eventi sui luoghi turistici, quindi sul Parco delle Cave di Caffiero, sul Parco archeologico degli Ipogei e sulle saline di Margherita di Savoia dove, al di là di trattare tematiche sociali legate al cinema, ci saranno delle visite guidate e offerte a tutti i visitatori. La Kermess sarà naturalmente l'occasione per promuovere le eccellenze del territorio della Valle dell'Ofrido. Poi il nostro vuole essere un festival del cinema differente, non al chiuso, al buio di una sala, ma un festival popolare a largo di una piazza, la piazza della Costituzione di San Ferdinando che, mi permetto di dire, è una delle piazze più belle di Puglia. Per capienza può contenere oltre 5.000 persone ed è uno scenario unico dove svolgeremo anche gli eventi serali con diversi ospiti e i cortometraggi, i cortometraggi da tutto il mondo, da oltre 30 nazioni diverse, da 5 continenti. Al fianco degli organizzatori anche il regista Giuseppe Arcieri, promotore del South Italy International Film Festival. Il Fernando Di Leo Short Film Festival è sicuramente un evento che raggruppa filmmaker, registi, ma soprattutto dà lustro alla memoria di un grandissimo regista che è Fernando Di Leo, apprezzato e ammirato da Quentin Tarantino e non poteva mancare il nostro supporto come South Italy International Film Festival, che supportiamo proprio il territorio, lo valorizziamo, anche le produzioni indipendenti e i vari registi.